Seguirono altri, piccoli doni divini di Vubbi, testimonianza di Domenico Pollice, strumento del Cenacolo Umanità e Movimento. In altre sedute seguirono altri apporti e asporti. Molti di questi oggetti furono materializzati grazie all'entità Enzo e in particolare alla guida fisica Akamanaki. Così abbiamo reso felici tante persone alle quali gli apporti erano destinati. Questa è in sintesi la mia storia, storia che può capitare a ognuno di voi. Termino dicendovi, grazie fratelli che vi siete fermati ad ascoltarmi. Spero di non avervi annoiato con questa mia esperienza di vita. Grazie a Enzo, ad Aura, a Fra Leopoldo, ad Alma, a Gata, ad Akamanaki, a Chicco, a Paracelso, che mi hanno dato la possibilità di incorporarli per essere utile agli altri. Commento Grazie a te, Domenico, che mi hai fatto testimone di molti apporti donati alle madri dai figli trapassati, doni che ricordavano alle mamme momenti precisi della vita insieme ai figli.